Per quanto riguarda Taranto parliamo di edilizia, in particolar modo edilizia a Mottola, al centro di un dibattito infatti con i cittadini. Presente anche l'assessore regionale Angela Barbanette. Sentiamo. Analisi e proposte a tre anni dall'approvazione del piano regolatore generale delle linee guida e il tema del dibattito organizzato a Mottola dal Partito Democratico. Sull'argomento edilizia, tema scottante per il territorio pugliese, è intervenuto l'assessore regionale all'urbanistica Angela Barbanette. Quanto riguarda Mottola noi abbiamo un po' di problemi perché Mottola dovrebbe in modo un po' più incisivo lavorare in questo campo, almeno a mio giudizio. La regione ha fatto un grande piano cassa, la riqualificazione delle periferie con i PIRP ha messo a disposizione 83 milioni di euro, cioè i comuni devono diventare attivi. Abbiamo anche una legge che consente di elaborare i programmi di rigenerazione urbana, anche per rimettere in moto anche un po' il mercato sul fronte però della riqualificazione. Dalla regione è partito l'ok, però sono i comuni che si devono attivare. E' assolutamente, la regione mette strumenti a disposizione, fa atti legislativi, programmatici, mette fondi a disposizione, però come sappiamo la competenza in questo campo per quanto attiene alla iniziativa locale. Il dibattito al quale hanno partecipato tecnici, imprese, associazioni e forze politiche e sociali del territorio è stato moderato da Giovanni Bello, consigliere comunale del Partito Democratico. Ancora non c'è nessuna volumetria realizzata nel territorio locale, nel territorio motolese, per cui nasce la necessità di un confronto sereno fra forze politiche, anche della maggioranza, che noi abbiamo invitato con tutti i cittadini a che da questo confronto sereno vengano fuori le proposte per modificare le linee guida in maniera tale da dargli operatività concreta e un ritaglio sul territorio. Il professore Barbanente viene in questo comune, come ha fatto già per altri comuni, per dare una mano a capire lo strumento urbanistico, come bisogna sbloccarlo. È un po' strano che a distanza di tre anni dall'approvazione del PRG a Mottola non sia accaduto ancora nulla, ci sono delle problematiche evidenti.